Raiz mi puoi bannare per un giorno Rocco Braz Ok vediamo dai Io non ho paura, non ho paura di voi, non ho paura di loro, non ho paura di nessuno No no Scappate come volete tutti, dove siete? Dove siete? Vincere e vincere sempre Scusa per la sub scammata sentient La prima apparizione di Riccardo è riconducibile all'intervista del Cerbero Podcast a Cecchi Paone e Sespo datata ad aprile del 2020 Che è ironico se ci pensate dato che alcune settimane dopo sarà proprio dal Cerbero Podcast che Riccardo diventerà quello che probabilmente già era ma che nessuno ancora poteva immaginare Ovvero un personaggio quasi fumettistico con le sue varie trasformazioni e i suoi innumerevoli archi narrativi Oh attenzione Uè è bello mio Ciao buonasera In tempi non sospetti Riccardo si presenta al grande pubblico come manager di Cecchi Paone e in quel momento l'ora davvero Ma possiamo dire che non durerà molto Tutto il resto invece è leggenda In particolare la frase ormai vienuta celebre Il suo manager in Italia presunta dei guadagni Che appunto diventerà uno dei meme cardine della lore l'iccardiana Allora io sono Rosario Riccardo Riccardo Rosario su Instagram trattino basso dove in pratica mi occupo da oltre sette anni Primato in Italia da oltre sette anni su risultato dei guadagni Di social media manager Più o meno cinque minuti da quando Riccardo apre bocca Ci sono già i primi commenti tra cui quello di Matteo Carlo che scrive Questo è stato Direi che Matteo Carlo ci aveva visto lungo Ho un team che mi aiuta ovviamente mi assiste da tanti anni Sono oltre sette interne e 205 esterne Dopo averci introdotto per la prima volta il suo team Il caposaldo della storia di Riccardo Avviene il primo dibattito effettivo Ed avviene con due dubbi Quindi questo sarà anche un'altra Ma è la sespo quello Un altro spoiler di quello che succederà più avanti Conto come una persona di tipo Mi accusasti di usare i bot su Instagram Greve Poi c'hai tre follower La live finisce in toni amichevoli Tant'è che in chiusura Dudubi pronuncerà queste parole Ma si figurati Vabbè allora dai ci sentiamo su Instagram E vediamo se possiamo organizzare delle cose fighe Beh direi che si sono organizzati alla perfezione L'apparizione successiva di Riccardo invece è sul canale di Omi Dove effettivamente per la prima volta Si costruisce un vero e proprio dibattito Con Riccardo come cardine della discussione Quando hai chiesto a qualche mio influencer Di spammarte quando avevi soltanto 100k Cioè 100 100 follower su Instagram Perché sono tutte le chat amico mio A muovere i primi passi nel mondo implicato e fantastico di Riccardo È Johnny Chuck Un altro social media manager Che ascoltando diciamo la storia di Riccardo Quella che aveva raccontato finora Ha i suoi legittimi dubbi Allora supponiamo che un dipendente Siano 2000 euro Perché ovviamente non credo che sfruterai le persone Quindi 2000 euro per 77 Tu dovresti fatturare il doppio Infatti Allora uno non ti dico i miei fatturati Due io fatturare regolarmente No 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 è giusto una domanda Un qualcosa che mi viene in mente Inoltre non possiamo non sottolineare l'ingresso nella lore Di un altro personaggio importantissimo Direi principale Comunque dopo aver buttato l'esca L'incontro viene rimandato in una seconda live Sempre sul canale di Omi Questa volta intitolata proprio Ivan Grieco vs Rosario Riccardo Però io sono qui semplicemente per mettere in guardia Le persone da Personaggi di questo tipo Che si fingono Mi manca la vecchia casa di Ivan Non mi manca casa mia Mi manca la vecchia casa di Ivan ragazzi Mi manca la vecchia postazione di Ivan Che era così familiare Che nascondeva quel suo letto Con un green screen Lo so ragazzi Non scrivetemelo Lo so lo so Siamo a tre minuti Non scrivetemelo Persone che non sono Che si fingono competenti In una materia Che probabilmente Non gli compete davvero In questa live Quindi iniziamo effettivamente A scalfire la superficie Della storia di Riccardo Ma parliamoci chiaro Lo scontro Ovvero è proprio l'arena Il torneo del potere Si terrà Dal Cerbero Podcast In quelle due famose live Che ad oggi Contrano Il povero Marco Merlino 4 milioni di visualizzazione In totale Da queste due live Usciranno fuori La maggior parte Dei meme Che ad oggi Verranno forse ricordati Con nostalgia E Riccardo Verrà così impresso Nell'immaginario collettivo Di chiunque Abbia assistito A quelle famose live La prima live Inizia già al top Con una dedica sonora Di Ivan Alcaro Riccardo Sei un birbone Un po' patetico Illegale Non sai più di cosa buttare Te la prendi con me Caro Rosario Canale vivente Da questo momento in poi La live continua In un crescendo Di emozioni Che culmineranno A mio parere Qui dovrò un attimo Distaccarmi Dal mio ruolo Che ho tenuto Fino ad adesso Di narratore oggettivo Dei fatti Per dirvi che Secondo me Il momento più alto Di questa live È stata raggiunta In questa clip Scusi Questo è quello che hai detto tu Adesso voglio i tuoi dati Ti voglio querelare Mi hai appena chiamato truffatore No 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 Assolutamente no Ho detto che io non truffo Ho detto Io non truffo Ho detto che lei truffa In effetti è vero Ho detto che io non truffo Ho detto io non truffo Io fornirei Il nome Il nome di Simone Quereli sto cazzo Sto cazzo devi querelare Grazie piccolo Sto cazzo Ma posso dire che Simone palesemente Grazie Lodi Simone lo vedo un po' simile a me Non gliene frega niente A lui Vuole solo memare Per cui si vedeva Che era proprio pronto Cioè non era Ivan è arrabbiato Nel dire quale era sto cazzo Simone proprio dice Lo faccio per la gloria E per il meme Grazie Sentient Fa quere di sto cazzo Ma se la rideva sotto i baffi Sì Perché non me lo dici da vicino Coglione Sei rovinato C'hai trent'anni Guarda com'è Stai rovinato Per favore Signore Signore Sia clemendo Marescia Marescia Sia clemendo Non me rovini Vi vedo la perga Ah Capuziello se vuoi puoi rientrare Ma andiamo con ordine Ma andiamo con ordine La live veniva inizialmente pensata Come un continuo dello scontro tra Ivan e Liccardo Che non aveva ancora trovato un finale Infatti Liccardo nella live di Omi Rispondeva vagamente con argomentazioni al limite del reale Alle innumerevoli domande di Ivan Sul suo presunto lavoro di social media manager Perciò in questa live Ivan riproporrà alcune delle domande A cui aveva già cercato di ricevere risposta nella live di Omi Come c'è chi paone e rispondi cazzo Per una volta devi rispondere Allora per quanto mi riguarda Io non ho nulla da dimostrare a nessuno Io lavoro in questo modo Ma invece la cosa divertente e surreale di questa live È proprio che più va avanti E più i dubbi sul conto di Liccardo aumentano Ma quest'uomo sembra avere il potere Di peggiorare la sua situazione solamente parlando Quali sono i corsi? La faccio io la domanda a te No io te l'ho fatta a te Porca madonna devi rispondere Mi ha fatto il sacco Vedi che Ivan è arrabbiato? È arrabbiato veramente Ivan super è super tinta Sì ma invece Tutubi sta lì e lo fa per il meme Capito? Lo fa per la gloria di fare il meme Ivan è proprio È un discorso per lui di vita o di morte La verità È un discorso di cuore e di vita o di morte Sembro io quando dicevo della Col tiktoker Quale? E poi ci sarà forse quel momento Ah sì 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 Coglioni sei un disonesto A fine live il pubblico Ok attenzione è una cosa da apprezzare di Ivan Attenzione è una cosa da apprezzare A volte esagera un po' Ma è una cosa da apprezzare Il buon cuore di Ivan Ormai si è fatto un'idea precisa Sul conto di Liccardo Che non solo non è riuscito a dimostrare Di essere il primo social media manager In Italia per risultati e guadagni Ma non è nemmeno riuscito a spiegare Il perché dei suoi vari follower indiani Sui suoi svariati profili Instagram Twitch insomma India 2128 Questo qua sull'arma Grazie piccolare Se adesso Ivan o qualcuno mi ha mandato Cento follow Questa bocca Ho mandato il mio team Ho scritto al mio team Siamo mandati i botti Dai Ma che figuraccia E' uscito fuori anche il fatto Che Liccardo non sia mai stato pagato Da Cecchi Paone E che quindi non avesse affatto Clienti tangibili Dato che il suo unico cliente Che nominava in ogni live Era Cecchi Paone Grazie di cuore Ivan Avevo percezione di cose non chiare Ma fa poco o nulla E' gratis Quindi siamo in tempo per evitare danni Restiamo in contatto Buona serata Questo cosa significa? Significa che tu stai facendo gratis Queste cose Tu ti proponi ai VIP gratis Per poi mettere sul profilo Che lavori per Cecchi Paone Ti spami con l'account di Cecchi Paone In ogni sua storia Poi ti sei proposto anche a DomiaTol gratuitamente E poi ad Eschi i ragazzini Che magari vedono A vedi questo lavora con Cecchi Paone E ti fai pagare dai ragazzini A questo e molto altro Lui risponde con una frase Ormai divenuta celebre Tutto esposto sul mio profilo Instagram Tranquillamente Ancora Quindi anche questa volta La live si conclude con il povero Liccardo Sconfitto sotto ogni punto No Niente scusate Punto di vista Ma una qualità innegabile di Liccardo È proprio quella di non arrendersi Di fronte a niente E nessuno Oggi è un gioco molto speciale per me Perché ho perso la mia virginità L'ho detto a mio papà Ed era molto felice Ma quando gli ho detto Se anche a lui La prima volta faceva male Il sederino è sbiancato Faccina triste Infatti proprio come il personaggio Di un fumetto Liccardo rinasce dalle sue ceneri E inizia a streamare su Twitch Sfruttando ovviamente L'hype che si era creato Intorno alla sua figura Passiamo direttamente alla seconda live storica Del Cerbero Liccardo viene nuovamente invitato Con le stesse premesse della live precedente Sempre grazie alla sua infinita determinazione Inizia la discussione Chiarando di essere pronto A far ricredere tutti E a ricevere delle scuse Lo so al minuto 21 Mi fa piacere poter finalmente chiarire Soprattutto ricevere delle scuse Ma poi dopo un po' Dopo un po' Anche Liccardo Non parlava di niente Non si parlava di niente Perché Liccardo Nessuno riusciva A distoglierlo Era completamente perso In una sorta di drogato Dalla fama Era grazie È stato un grande cazzo Di Barbara D'Urso Ma sì Il problema è che Liccardo era Liccardo era se stesso Era drogato Nello stare sotto i riflettori E si è autodistrutto Così Perché poi Il Cerbero Tutti gli altri Anche quando veniva da noi Dopo un po' Se tu monti un castello di carta Poi dopo un po' Viene giù È ben diversa E la storia di Liccardo È ancora lontana Grazie La live infatti Sottolineerà Altri aspetti Della totale incompetenza Del nostro protagonista Come social media manager GDPR è un acronimo Sì Liccardo Per cosa sta GDPR? Lo stavo spiegando più sempre E farlo spiegare a tutti No È una cosa È una cosa imprescindibile Di ogni social media manager Che cosa Io vorrei chiedere un'altra cosa Invece Posso Che cosa Che cosa Nulla risponda Lo sta cercando Guarda Si è aperto il bianco di Google Guardalo Guardalo Cos'è un DGCR GDPR Cos'è? Non so l'acronimo Come si traduce Ma sarebbero Tutti i regolamenti Relativi alla privacy Che sono in vigore Adesso in Europa Da già un po' Di anni E regolamentano Ah vabbè Me ne batto Me ne batto Me ne batto una sega No Non è Regolamenta come devono essere trattati i dati Nel rispetto Della tutela della privacy Si raccogli i dati Chi è il detentore Dove li metti Quale livello di sicurezza di metterli Un spaccamento di coglioni Tremendo Ma datemi tutte le vostre mail Che poi vende i big data Su su Sì che mi hanno proposto Di vendere i big data Io c'è già con l'università Se facciamo Io ho già la tua mail Già venduta Venduta E già Già andata Ti dovrebbero essere arrivate Delle proposte di spam Dovresti essere Questo sì Dovresti essere pieno di spam Quanto che tu dai il mio numero Alle persone Adesso non più Una volta Ogni tanto mi arrivava un messaggio Ah Andrea mi ha dato il tuo numero Va bene No è Fedez No non era Fedez Erano altri E allora Di anche le cose Le cose positive Non solo quelle negative Mi fai tanto ridere Ti voglio bene Grazie Siuma Terzino vaso official Enk Grazie Enk Allora Prego Non scrivete le vostre mail Per favore Amazon Ti è arrivato un pacco Clicca qui per confermare Dai tanti Ah 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 fra ma I Il migliore Però vabbè Noi ridiamo e scherziamo Perché siamo giovani Siamo dentro questo mondo Ma se arrivassi a mia nonna Mi sa che ci casca Aspetta Ma vuoi Vuoi entrare nella La dogana Un attimo che confermo Ecco fatto Scusa Era in giacenza Ok ok Niente No non fa Non cliccate niente ragazzi Non cliccate Ti ricordi Non so se mi Quella Ti ricordi quando c'era Su un noto youtuber italiano Aveva fatto un gioco E prevevi un malware Quando lo scaricavi Non ho memoria Forse qualcuno Si ricorda Paradisi E poi ti faccio anche vedere Un'altra chicca Anche io ti voglio bene Un'altra chicca E uno mi diceva Che se non ti rispondevo Ti offendevi Un po' delayato Ma va bene Ciao Omi Ciao Omi Ultimamente ho riflettuto Sul fatto che hai influenzato Molto il mio umorismo Sei molto importante Per tutti noi Anche se non lo dimostriamo Ti vogliamo bene Io soy Omi E ho lì in chat Grazie 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 mille Lo so Lo so Già mi date i soldi Per cui Basta E avanza Zeb In realtà Quando ero piccolo 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 Io ero Entrato Ero infognato Ma di brutto Di Vabbè Di GTA San Andreas Ho scoperto Che Zeb È stato il primo creatore Di una mod Che era quella Dove Io non pensavo fosse una mod Pensavo fosse Delle cose segrete Nel gioco Che praticamente Zeb mise Per la prima volta Gli UFO E tutte queste cose Su GTA Ed era lui che mise Aveva fatto una mod Famosissima E tutto il mondo Tutto YouTube Ne parlava E io andavo con i miei amici A sfatare i mici Su GTA Ciao coglioni Ora sono 13 Come i grammi di fumo Fumati a Capodanno Ciao Giuseppe Non ti ringrazio Perché sei volgare Scusami Il Bigfoot Esatto Il Bigfoot Mister X Mister X Yes Grazie Grazie Da sottolineare E da ricordare Ci sono sicuramente Le sue risposte Sconclusionate In cosa consiste La sua protezione Dalla garage Semplicemente Faccio attuare Una protezione Dell'account Instagram Più vari controlli Che facciamo noi All'interno In che modo Toppa identificazione Non è solo questo E tant'altro Che facciamo Più Più Fate Lo studio Lo studio La password Per un attimo Capire La protezione Della password Ci sono password Vulnerabili Beh Scusami In quanto Lo senso Ti seguo Da quando Bevi La Cosa Servizi Che ti fanno L'analisi Sicurezza Ma si A parte che Te lo fa Qualsiasi Però se Riccardo Lo lascia Ti studia La password E poi La sa Anche lui E no La Devi far studiare Ha un software Apposito In teoria Lui non dovrebbe Metterci le mani E voi Io Ora non lo dico Vabbè Ho un mio Sistema Di password Fatto Da anni Anni Di Servizi Internet E ho Un mio sistema Per fare Su ogni sito Una password Bravo Infatti È per questo Che non sono Mai preoccupato Di Di password O di altro Perché tanto se Ce n'è una Mai preoccupato Di password Dal 2012 Me le ricordo Tutte Sì 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 Ne ho nella mia testa Circa 15 Infatti L'unico problema È che se me ne scordo Una Cioè ne ho 15 Non infinite Però se me ne scordo Una Ci metto Circa un quarto D'ora A riprenderla E non è Querti 1 2 3 4 5 Non posso dire Altro Scusate E non Più tante altre cose Che non sono E non è Aspetta posso anche dire Che non è 1 2 3 4 Ecco Tipo Tipo Mi metto a piangere O inesistenti Perché quando facevo vedere I commenti pubblici Di cecchi paone Che dice che ti ha licenziato Tu schippavi Non posso rispondere A questa domanda Certo Tutte le domande Pertinenti E scomode Tutti dissociano Anche questa Un'altra frase Divenuta celebre Un altro meme Da aggiungere A quelli già citati Della live precedente Non posso rispondere A questa domanda Comunque su quel discorso È che anche in questa live Riccardo esce Totalmente sconfitto Tanto che Come da titolo Esce proprio dalla chiamata Un giorno esiste oppure no 6 febbraio Vi do anche più soldi Rosario perché ha oscurato la web A posto così Non ho più nulla da aggiungere Comunque in questa live Da 4 ore quasi Ci sarebbero altri Innumerevoli momenti epici Ma questa scena è più intricata Di un film di Lynch Quindi devo darmi una mossa E rimanere sulle informazioni Fondamentali Ai fini della storia A questo punto La figura di Riccardo È conosciuta in tutto il web E come era prevedibile Il nostro antieroe per eccellenza Si ritira nel suo canale Twitch Non mi interessa il cazzo Che mi ha chiesto scusa in live Mi devi chiedere scusa a me Perché me lo mangio Me lo mangio Grazie Ma mi dissocio La sua carriera da streamer Comunque non durerà molto Infatti il suo primo addio Avverrà a giugno del 2020 Il motivo secondo me È abbastanza palese La sua stessa chat Lo odia Ma lo guarda comunque Grazie alla sua involontaria Ilarità Mi dissocio Mi dissocio No 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 Mi dissocio Mi dissocio Anch'io Nessuna strategia Non è nulla Ragazzi No 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 Ma forse non ha proprio ottenuto L'effetto Ma però Scusami bro Signor Ciancianguilla Bravo Bel video Ma bro Rendecelo friendly E non che ci licenzino Comunque La trama Si infittisce L'Iccardo A quanto pare È stato manipolato Non può dirci da chi Ma il personaggio Che avevamo visto Fino a quel momento Non era davvero Licky Ma una marionetta Nelle mani Di una qualche figura misteriosa Tutto quello Che io Ho fatto Io Ho dovuto indossare Una maschera Che non ero io Quindi tutto quello Che aveva fatto fino ad oggi Secondo questa versione Non sarebbe stato altro Che un piano Architettato Da una persona esterna Che lo manipolava E il piano avrebbe anche funzionato Se non fosse stato Per la morale Indiscutibile E inamovibile Di Riccardo Che lo riporterà Sulla retta via Vi giuro Sulla mia vita Che mi hanno proposto Fit Mi hanno proposto Di fare video Mi hanno proposto Di fare Otto Mi hanno proposto Di fare Il giullare Mi hanno proposto Di fare il comico Mi hanno proposto Di fare l'incazzatore Ma non posso Di fare di tutto Ma questo Vedete Nudo e crudo Così come sono Vedete La mia faccia La mia voce Questo È Rosario Riccardo Comunque Questa è la versione Di Riccardo Ma l'impressione Del pubblico È ben diversa E in effetti Nella situazione In cui si trova Solo Riccardo Stesso avrebbe potuto Anche solo Pensare Che la storia Del piano architettato Grazie a Marte Sterlina Spin Il freebooter Che faceva Un botto Di video Così Cambiando I titoli E mettendo Da chi sa chi Sarebbe risultata Credibile Tutte cazzate Ti hanno manipolato Ti hanno chiesto Fit Hai detto Che non ti piaceva Fare il pagliaccio Ma tu Hai voluto fare Questo Mica io Te ci ho Stretto Comunque In questo periodo Continua a fare Live In cui ripete Che è stato male Ho decisato Un fit Con Gioelier Ho fatto show Sulla sua persona E altre robe Di questo tipo Poi per qualche motivo Riesce a inserire Dentro questa storia Anche Chiara Ferragni Ho necessità Dell'aiuto Di Chiara Ferragni Per poter andare avanti Io ad oggi Non ho la più pallida Idea del perché Avesse bisogno In quel momento Di Chiara Ferragni Questo è un pezzo Purtroppo mancante Del puzzle Io ho detto L'unica persona Che può aiutare Questa situazione È Chiara Ferragni Invece di Fare tutto quello Che stanno facendo Finora Taggate Chiara Ferragni E ne usciremo insieme Stop Non ho chiesto soldi Ma che cosa può dire Taggate Chiara Ferragni E ne usciremo insieme È un altro momento Per fare risultato Anche qua Capitolo molto buio Arriva quindi Il tanto anticipato Momento Di abbandonare i social Per la seconda volta Molto buio Io ora non ricordo Se in questo periodo La sua figura Stia o no Perdendo hype Quindi non so dire Con certezza Se il suo abbandono Possa essere un'ulteriore mossa Per cercare di guadagnare Attenzione dal pubblico Sono solo che questi sono i fatti Siamo a fine agosto 2020 E l'Iccardo pubblica una storia In cui annuncia Che abbandonerà Definitivamente i social È arrivato il momento Di scendere Era inevitabile Però sta metabolizzando Sta metabolizzando Ho una dignità Sta metabolizzando Non ho perso una seria E sono stanco di tutto questo Ma questa volta Ci mette anche meno tempo A cambiare idea E infatti pochi giorni dopo Annuncia il suo ritorno Ci sono cascato di nuovo Non chiede scusa E anzi pretende delle scuse Da tutti quelli Che lo hanno attaccato Simone l'ho invitato Uno messuno non viene Però i numeri stanno calando Con Ivan c'erano più numeri Cambia completamente Modus operandi Torna prima con una live Su Instagram E poi con una live In macchina La prima delle tante Direi Sono stato No papo Ciao uomi Ciao uomi Dopo questo bellissimo video Potresti reagire Al mio buco di culo Grazie Pepe a Banfaen Una live su Instagram E poi con una live In macchina Riccardo Rosario Sono stato Un amico dato da Omi Sono stato deluso Non sono Non sei stato Ma non sono più Manipolato da me Macchina La prima Lo sbaglio Hank Ma io Il mio commento Sull'intera vicenda Il mio commento È che l'ho incontrato Però Devo seguire comunque Il La Consecuzio Temporis Del video La La questione Secondo me È che sicuramente Lui ha commesso Una marea Di stronzate Continuando ad andare A essere invitato A dire cose Cambiare versioni Temporum Temporum Scusami E Consecuzio Tempo Nominativo Oggettivo Adattivo Accusativo Vocativo Va bene Comunque Oltre un Certo po' È evidente Che è una persona Che non sta bene Cioè Che Quindi Andare a continuare A punzecchiarlo Per Per cosa Per cosa Dov'è la giustizia Morale Niente Buttarlo sul palco E pisciarci addosso Secondo me Non è una cosa bella Da fare Poi Ognuno faccia Quel cazzo Che gli pare A me non me ne frega Una micchia Boh Ok Stavo citando A memoria Scusami Hank Hank sta benissimo E Wanna Beat Ruffatore Ah no Ok Hank sta benissimo Ok No Ti rispondevano a te Delle tante direi Tutti quelli Che hanno sparlato di me Tutti quelli Che hanno accusato Rosario Riccardo Di essere una cattiva persona Sono tutti invitati Tutti Uno ad uno Uno In questa live Non solo dichiara battaglia Tutto il web Dimostrando ancora una volta Di non sapere Cosa vuol dire La parola Resa Ma addirittura Stavolta Sembrerebbe avere Un esercito Dalla sua parte L'hanno fatto E vorrebbero Continuare a fare Ma io non glielo permetto Perché adesso Siamo scesi in campo Adesso siamo scesi in campo Adesso siamo un esercito Adesso ci possiamo muovere Riccardo Allora Hank Non so anche tu Lo fa anche Patrizio Questa cosa Io sono spaventato Dalle persone Che parlano di se stessi In terza persona Non so se Lo fa anche Patrizio Sì 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 In questo caso Penso si riferisse Alla sua community Ma in generale Lui dice Io sono Rosario Riccardo Non lo fa Hank Non lo fa Hank Noi non ci siamo mai permessi Di fare una cosa del genere È una prima persona plurale Che è la stessa cosa Della terza persona Secondo me No Luis Sal Si autoannuncia Non è che dice Io sono Luis Sal Dice Luis Sal E si annuncia Ed entra Anche Martini fa Max Power Ed entra Enrico dice Allora ragazzi Enrico menza Va bene Grazie Io dico Guera Per annunciarmi Esatto Vuoi farlo manipolarlo? C'è bisogno di content Non vuole accettare la realtà Si rifugia invece Nella sua immaginazione Ed è proprio da lì Che tira fuori La famiglia Siamo una grande Famiglia per me Famiglia Che questa faccenda Raggiunge vette In arrivo Ma Sterlina Era proprio Anche Sterlina Stava cadendo lentamente Nel buco Ma è veramente È stata una bolla Di Di Barbara d'urso Cioè Il nulla cosmico Perché guai È il nulla cosmico Tutti che Invitano Fanno Secondo me Enrico Ma tu Quando parlavamo con Liccardo Questo mi è successo Con Liccardo E con Rocco Siffredi Quando Vabbè A parte che c'era la quarantena Però tu non sai Che io Nel mentre Facciamo l'intervista Liccardo Avevo il telefono Di Di miei amici Di persone che conoscevo Che mi scrivano Mi avevano scritto 50 60 persone Nel giro di un'ora Fammi entrare Fammi entrare Devo parlare C'è qualcosa che non Guarda Ma tutti È perché Perché È il Grazie È il classico È la classica Roba delle iene Perché piacciono i servizi Sui troffatori Magari li vogliono ancora vedere Perché la gente E qua Dico una cosa vera Secondo me La gente Capisce Cioè È lampante Che c'è qualcosa Cosa che non va Per cui la gente Avendo già La soluzione Al rebus Vuole partecipare E Dare lo scacco matto Come dicevamo Sì ma Questo diciamo Poteva magari Essere il motivo Iniziale Anche se Per accusare Qualcuno di truffa Devi avere Non era No no Io non lo accuserei Di truffa Direi che era Un fancazionone Ma le prove Erano quelle che erano Poi Non è che sia stato condotto Con un grande fare giornalistico Ma al di là di questo Una volta che Qua c'è Cioè sta storia Avanti da un anno Qui siamo a 2 settembre Non so quando abbiamo imitato Noi aprile Cioè A questo punto qui Non c'era più niente da dire A questo punto qui E non è Lascia postare La sua carriera Di quello che gli pare Basta È sempre È pur sempre un umano Cioè Comunque L'hanno Lui Si è Per Gliel'ha permesso Ma comunque Gli hanno rovinato la vita Sto povero Cristo Cioè A me fa pena Dopo un po' Posso dire che mi fa pena O no Sì Però fa tutto lui Cioè Io Seguo comunque La conseguenza Perché non è in grado Di gestirla Questa cazzo di cosa Evidentemente E Chi invece Come Cioè Il cerbero L'invita No Si vede che lo prendono in giro Quando non sa streamare E così Cioè Noi siamo Popolo del web Più o meno Sappiamo gestirle queste cose Oltre un certo limite E Veramente Minchia Sparare su un cadavere Cioè Lasciatelo stare Basta Quella Io capisco La certa schermo Io ti denuncio Patrizio Ma infatti Il cerbero Non è anche più Se lo caga Qua Non è che Se lo sta cagando Il cerbero Qua Fa tutto lui Fa tutto lui Da solo Sì perché Voglio le vostre Scusi Non ho detto Che è un truffatore Non ho detto Che è un truffatore Ha detto Che si è rovinato Non voglio dire Che fosse un truffatore Non lo dico Non è Non è che sto dicendo Non voglio fare Il buonista Ragazzi Cioè Non me ne frega Un cazzo Di dire le cose Inappropriate In questo caso A me Umanamente Mi fa pena Ok Cioè Si vede Che non sa gestire Quello che ti sta succedendo Non ha la minima idea Di come controbattere Alla merda Che ti tirano addosso Basta E' finito In questo cazzo Il vortice Per causa sua L'ha peggiorato Cento volte Ogni volta Che è stato invitato Oltre un certo limite Secondo me Non ha senso Perché poi Cosa stai ottenendo Esattamente Dopo che Ci hai parlato Per 30 40 ore Cosa vuoi fargli dire Lascialo stare Cazzo Quello che Doveva dire O non doveva dire L'ha già detto Non c'è più niente Di interessante E Fondamentalmente Sfruttarlo Perché Perché non sa Cosa sta facendo Poverino Boh Secondo me Così Poi Avrò torto Chatta Andatemi contro Dite quello che volete Cosa cazzo è sta roba adesso Il tico tico Il tico tico Io faccio un discorso sentito E questo lunette L'asbra Assurdo Grazie Ma dici che i tipi sbordano E a me lo chiedi Cheat Ma Sì Io non vedo Comunque No Sto guardando Violet Che Devo dire È una bella fanciulla No No La vedo come Una collega Per cui Collega Zond È molto È È Sdoganata Ormai È molto simpatica Mi piace molto Il suo format del Twister Sai cosa mi fa ridere Perché l'avevamo pensato a noi Uffa Io ti ho detto Bro Invita Delle Mega fighe E fai fare Twister In quattro Tu le guardi solo Fai Twister Letteralmente Zero investimento Devi comprare Il fottuto tappeto Da Twister Ti avevo detto No bro Schimà Vediamo poi E non l'hai fatto Adesso se lo facciamo Ci dicono che copiamo Amurant È assurdo questo All'interno di ciò Però dico io cos'è assurdo Eh Però è assurdo che la gente ci guarda Adesso te ne sei accorto Dopo 6.000 ore di live Al di là di ciò Mi piace molto Quando fa Twister Violet Perché c'è il suo gatto Sovrappeso Che si mette sui colori Che si vede che gli piacciono E lei Deve Oltre che già fare il Twister Deve anche schivarlo E mi fa molto ridere Non so come Di risponderti Niente Così Però no È assurdo che letteralmente Una persona può decidere Di non lavorare E tentare la carriera Da YouTuber E dire È il mio nuovo lavoro Ci stavo pensando Cioè È super assurdo Letteralmente 5 anni fa C'era un mio amico Che Manca di più 6 C'era un mio amico Che faceva 3-4.000 euro al mese Perché ricaricava Ogni canzone uscita Da Spotify Su YouTube E adesso Quel tuo amico È Fabio Rovazzi No È Fabio Rovazzi È assurdo Cioè Viviamo proprio Viviamo proprio In un mondo Che ci sta togliendo I problemi Quelli di Siamo proprio First world problem Quando tu devi pensare Che hai problemi psicologici Vuol dire Che il tuo stato Ti da Cioè Vuol dire che Vivi bene Escusate Il cerbero Voglio le scuse Dei fan Del cerbero Voglio le scuse Di tutte le persone Che mi hanno attaccato Ingiustamente Tutti E tutti insieme Vinceremo Riccardo inizia Per qualche motivo A parlare di se stesso In terza persona Grande prediction Grande prediction Che lo so No ragazzi Sono Letteralmente Sono Uber stanco Per questo Sbaglio Riccardo non si arrende Che lo so Riccardo Non passa Per quello Che non è Il cerbero Ha fatto passare Rosario Riccardo Per quello Che non è Voglio le scuse Del cerbero Ora io Attaccherò loro Io vi farò capire Chi è il cerbero Chi è Rosario Riccardo Noi vinceremo A citare vecchi slogan Forse inconsapevolmente Vincere E vinceremo Sempre Vincere E vinceremo Sempre Ma vabbè Secondo me Perché la giunta Glielo diceva in chat E lui non capisce La citazione storica Un po' Un po' Di estrema destra Compromettente Sempre Sempre Insieme ce la faremo Vincere e vinceremo Contro le giustizie Contro il cembero Contro la falsità Vincere e vinceremo Basta È una definizione Gruppo infinito In cui Riccardo Non sembra nemmeno Più interessato A convincere il pubblico Delle sue parole Riccardo Rosario Siamo con te Riccardo Rosario Riccardo Rosario Riccardo Rosario Riccardo Rosario Siamo con te Guarda che è contento Riccardo Rosario Siamo con te Tutti Tutti Questo secondo me È il periodo più buio Di Riccardo Rosario Per lui Per lui Tutti Ma letteralmente Stime in macchia Tutti Voglio che tutti Scrivete Riccardo Rosario Siamo con te Tutti Mi sembra piuttosto Che cerchi Per tutta la live Di convincere se stesso Dei suoi racconti E non qualcun altro E più la live Va avanti E più sembra riuscire Nel suo intento Grazie Vi leggo tutti Grazie 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 Io ci sarò sempre Per voi Per tutti voi Tutti 904 spettatori A mezzanotte Riccardo Rosario Trattino basso Su Twitch Storia d'Italia Storia d'Italia Storia d'Italia Riccardo forse Per la prima volta In questa live Inizia davvero a credere Alle bugie Che lui stesso Racconta Ero al lavoro Perché ho vari business Come già vi ho detto Ero al lavoro Quando il signor Mr. Flame Flame Io lo so Che ci sei La situazione La situazione Resta invariata Per un po' Di tempo Le live Deliranti In macchina Si moltiplicano Una dopo l'altra Così come i momenti Ai limiti Ma faceva comunque Views Cioè Sterlina Cioè 10k Riccardo Lutero Pugliaco Di Starometheus E Synergo Ma mai Mai Sosterrò Che questa roba Non viene vista La gente Ama Il chip drama Sennò non esisterebbe Barbara Durs Non esisterebbe L'intero palinsesto Di Mediaset Sì ma come fai Di stare lì Nero Mi sono divertito Molto E mi piacerebbe Rivedere Adesso Sai dove è Sennò E la sua Yakuza Guardare Questa live Ah no Con un'ora Allora Se siete youtubers Grazie Gianluca I video da un'ora e dieci Che fanno poche views Sono super consigliati Fate Se siete freebooter Fate video lunghi L'assurdo Cosa volete Cosa Cosa volete La mia camicia La mia vita Grazie Gianluca I soldi Cosa volete I miei soldi Cosa 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 volete Cosa Cosa volete Cosa Volete questi Un po' di soldi Volete questi Ma non dico Al mio impero Perché noi siamo un impero Stiamo diventato un impero Diventeremo un impero Comunque l'ultima volta che ho visto Una massetta di soldi Così in live In un video Era Semplice quadina di carta Ed era un altro sito Che rappresenta la vita Qua schippo tra poco Le persone Che fiteranno sempre Per schiacciarvi così Ma noi Capito lo sei Che qua Era bannabile Devo schipparlo per forza E il 27 ottobre 2020 E l'Iccardo è ufficialmente Scomparso dal web Ma che dico dal web Questa volta è scomparso Dalla faccia della terra Infatti quella che Presumibilmente Comunque niente Niente club Oggi E arrivo Un secondo Broskis Leggendarist cap Credevateci E la ragazza In questo periodo pubblica Un post E che dimmi Scusami Vai 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 No no Stavi parlando? No Di Riccardo Aiuto Scomparso Ultimo avvistamento Ieri nei pressi Del vomero Ma a questo punto Un rubino Molto preoccupato Ma chi ce crede? Ma chi ce crede? Chiama Riccardo In live Dice che sta fuori casa Mi ha detto Non vuole più Ritornare Si è incazzato Il pubblico Comunque Data la reputazione Che lui stesso Si era creato Non è che credesse Più di tanto A questa scomparsa O fuga Come volete chiamarlo Aspetta anche Un secondo Enzona Ottima inquadratura Enzo E' un malvestito? Si Enzo tanto Mi fa stare In respect Perché è sempre Vestita Molto belle E non solo In respect Ma quando venite Alla fine Quando venite Per fare questa IRL a Roma Qual è il giorno Per scelto? Avete preso il treno? Devo sentire Chris Devo assolutamente Sentirlo Grazie A 20 euro No A 20 euro Con il Twitter Dai gli sti 20 euro Ma tutti con il Twitter E che Quando se l'ho detto Io non l'ho voluto fare Devo finire un video Ciao Grazie Per essere passato Un bacione Ciao Ciao No 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 Assolutamente Grazie Assolutamente State buoni State buoni State buoni Mi saluta Hank Dice Omietol Ciao Hank Ti saluto anch'io Hank Ok Grazie Ragazzi Siete tantissimi Grazie Oggi è lunedì Dei Lunedì In amicizia Tra Content Fresh Non Content Il giorno stesso Qualcuno pubblica Una storia Sul suo profilo Ma è davvero Liccardo Questa volta Sembrerebbe che Liccardo Rosario Che avevamo imparato A conoscere Fino a questo momento Sia stato sostituito Esattamente come Majin Bu Maurizio Chef Maurizio Scusa Non so se hai una fidanzata Che ti ascolta Ma Chef Maurizio Ti vedo solo Quando ci sono Delle Delle donne Sai che mi segue Chef Maurizio Hank Che non conosco Neanche io Però c'è lo Chef Nel nome Per cui risulta Un po' più altolocato Rispetto al normale Ne convengo Chef Maurizio Unica cosa Interessante Di che parte Di che regione D'Italia sei Ah a proposito di Chef Volevo dirti questa cosa Andriamo da Bottura Con Kanye West No Ma scusa La Kanye West È venuta a Capodanno Con Ter Carlone Sì ma ti ho detto Che Ah beh no Ok ok E no Volevo dirti Lo Chef Christian Spagnoli Già Finalista Della Chef Global Challenge 2016 Mi ha invitato A cucinare Nella sua cucina Diciamo quasi stellata Ma di altissimo livello A Milano Io volevo fare una irra No Però non ho L'attrezzatura Eccetera eccetera Allora ho pensato Potrebbe essere Che io ti ingaggio Come Videomakers Cioè Vieni tu Fai una irlo Sul tuo canale E Ma a Torino No a Milano Chef di Più in là Eh più in là Di che ristorante Ristorante Si chiama Chef Raffaello No Chef Christian Spagnoli E lui è veramente Un cuoricino Cioè quando l'ho Intervistato Era super carino Si chiama Mi View Restaurant Mi M.I. View È al ventesimo Piano di un Grattacielo Tu vieni ovviamente In qualità Di cameraman Questo è Top shit Posto bro Mi ha detto Il menu è pazzesco Ho capito dov'è Qua è dove Bello figo Ha registrato Il video con Manny Fresh Al Burger King C'è qua Vabbè Vabbè Se è un posto così Se è un'offerta Che può interessarti Parlerò con i Vertici Modificati E solo Come emozionarsi A tavola Ma è Italiano Rivisitato Eh Ah si Unisce Vabbè Il grande classico Unisce la tradizione Ah in zona 7 Comunque Veramente Zona 8 Perché Quando abbiamo fatto L'intervista Lui era in cucina Stava lavorando Ma è offerto? No Io ero a casa mia No no Offerta l'experience Ma cucino Spero che mi Diamo Tartare di vicciola In salsa guacamole Ok Prendo quello Poi prendo La Regola Integrale Con ceci e cozze Senza i ceci Che sono una cosa Un po' da hipster Lo spaghetto 4p L'hamburger Sbagliato Sbagliato Oppure I I vacche Il ragù napoletano Super Il salmone Cotto sulla pelle Super Pure di patata Limone Sedano Un po' da hipster Un po' da hipster Si prendiamo anche La puria di Tom Pinabur Ma a me le cucini Tutte tu? Non so Cosa mi fa fare Poi adesso Gli parlerò con calma Però Appunto Io non è che voglio andare Con la mia telecamera Poi non c'ho niente Così Se a te può interessare Venire a fare Guarda Se non hai Dunedì Che ho il club Sì Tanto è orario di cena Puoi stare da te Ah io qua Ho una camera libera Vabbè Ma tanto è più in là Adesso col covid Non ha senso Sarà Marzo Però ma gli vuoi dare Cioè Questo c'ha il covid Ok Da tre Da tre anni Sto chef Poverino E andiamo il prima possibile Perché cazzo Non puoi Cioè Lui magari boccheggia Facciamo sta Free ADV A lui E facciamo subito Cioè Ma che cazzo dici? Ma mica È un ADV Ma no Certo Però è ovvio Lui ci offre un servizio Al posto di pagare Per farsi sponsorizzare Ci offre la cena E io sono più che contento Di far così Però andiamoci subito Cioè Siamo carichi Ma non andremo Adesso Devo parlargli Devo chiedergli Però fatti questa terza dose Me la faccio anch'io Andiamo allo stellato Esatto No Non è stellato Ci stanno lavorando Per ottenersi la miscina Comunque lui ha fatto La Global Chef Challenge Dove devi portare Un menu Uber complicato Ma poi Lui come persona È proprio super carino C'era Nella live Potrà Ma poi Chi offre Chi offre cibo E Drinks Sono sempre Le persone più simpatiche Per cui Sono sempre più Cioè Super Positiva A far cose A far Collabo Anche perché È una roba super figa Secondo me Ok Andiamo avanti Si divide in due entità separate Il Don In questo caso Rappresenta la parte Di pura malvagità E il risentimento Pronta a vendicarsi Di tutti Come vedete Una dimostrazione Di pura malvagità Di puro content Oh mille persone Oh mille persone Riggio Che ride Pura malvagità Stamattina Stamattina Aveva scritto Sui social Che era uno per lui Comparso Aiutatici a trovarlo Dopo poche ore Bro ma non è che È Mr. Flame Che era il burattinaio Che si è posto Poi gli È il fratello Di Mr. Flame Così Riggio Alessandro Cabilade Mr. Lame Riccardo in poco tempo Grazie alla sua Enorme forza spirituale Riesce a controllare Il suo alter ego Quella non mi serve Ciao ragazzi Signori È super motivato E come ogni degno eroe Vuole condividere con noi Questa sua rinnovata Energia Riccardo ci insegnerà L'arte del business online Chiunque Mi seguirà Saprà Come Fare Business Online Come diventare Un personaggio Come diventare Dipendenti Di Se stesso E di Nessuno E questa Partitaiva Volta Dalla sua Niente poco di meno Che Gianluca Vacchi Posso dirvi che c'entra una G Posso dirvi che c'entra una V Sono Nel Gruppo Del King Del King Del Market E del Web Il King del Market E del Web Il King Già penso Spirei E vabbè Giusto E letteralmente L'ha già finita Sì 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 Il re del market Dirà Il re del market Lo aiuterà In questo suo nuovo percorso In realtà non ci lavorerà mai Ma si è iscritto A un corso gratuito Accessibile a tutti Comunque Gianluca Vacchi A parte Pochi giorni dopo Liccardo ci mostrerà La sua seconda trasformazione Minchia quanti capitoli Bene io ho delle serie difficoltà A trovare un modo per presentare Questo nuovo stadio evolutivo Di Liccardo Io Sono Tu Ok Jabba Walkis Ci tengo a ricordare Che il 31 ottobre 2020 Liccardo è ancora bannato da Twitch Quindi la situazione è questa In pratica ha coperto una parete Con un sacco dell'immondizia Si è creato un nuovo profilo Twitch E ha cercato di eludere il ban Come voleva si dimostrare Io sono X A vita breve Viene bannato seduta stante E questa volta Si presume Per sempre Twitch Addio Liccardo Rosario Ti saluta E si sposta definitivamente Su Youtube Da qui ci sarà il vero e proprio Declino finale Del nostro eroe Che nonostante la sua enorme Forza di volontà Non riuscirà più a risalire Dal baratro In cui lui stesso Si è buttato Non farò mai nulla Mai nulla Di sbagliato Contro Youtube Che amo Signori Amo Youtube Grazie Devo dire che cambia idea Molto in fretta Io Avevo dedicato la mia vita Io ritorno Su Twitch Liccardo su Youtube Non funziona per niente Fa un paio di live In cui dice Le sue solite cazzatine E per il resto Non succede nulla Di eclatante Vabbè A parte un mini Ritorno del Don Che non fa molto Scalpore La situazione resta invariata Fino all'11 novembre 2020 Quando spunterà fuori La nuova personalità Di Rosario Liccardo Fermati Per favore Fermati Io sono Rio Liccardo E non sono Una nuova personalità Di Rosario Riccardo Una nuova pazzia Di Rosario Riccardo E invece proprio lei È proprio la terza Personalità Di Liccardo Rio è quel fantomatico Social media manager Che Liccardo Non è mai riuscito ad essere E ora si offre Di aiutare chiunque Con le sue competenze Che prima non aveva Ma che ovviamente Sono spuntate fuori All'improvviso Insieme alla sua nuova personalità Io sono Rio Liccardo Sono un social media manager Sono quel social media manager Che avete voluto presentare A tutti voi sul web Sono quel social media manager Di cui tutti voi Avete bisogno Volevate Perché sono quel social media manager Che D'ora in poi Per sempre Ci sarà per tutti voi Vi ricordate la trasformazione In Don Quando la parte cattiva Si era staccata Da quella buona E Corrio si presenta Come la parte più buona E pura di Licchi Priva di qualsivoglia Malvagità Sono io Liccardo Sono la vostra guida Sono colui Che ha creato Che sta creando Il più grande movimento Mediatico di internet Mai visto a primatura Sono la vostra guida Sono vostro fratello Se non fosse Che pochi giorni dopo Tutti quelli Che saranno con noi Saranno Nella potenza Mediatica Di internet Più grande Della storia Dov'è in poi Si parte all'attacco Si parte all'attacco Verso tutti Avviserò qui Nelle storie Ad ogni attacco Ecco diciamo Che gli attacchi Mediatici Non sono esattamente Una pratica Molto carina Da parte di Dio Comunque Riccardo Sembrerebbe aver ritrovato La sua motivazione E questa volta La famiglia È dalla sua parte Ecco Sono sicuro Che c'è Qualcun Qualche modificato C'è qualche Ragazzo del Cerbero Ma sicuro Sicuro Che sta lì E Prova a burattinare Nel senso che Trolla 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 Cioè Io sto comunque Seguendo il corso Del video Sono sicuro Che sta lì Famiglia Famiglia Ma in realtà Dentro trolla 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 E si prende il gioco Poverino di lui Grazie Grazie Ecco Ecco il primo Come si fa a ignorare Uno del genere Per una presunta Purezza morale Da mantenere Ma non è una questione Di purezza morale Il punto è che Intervistandolo Dandogli spazio Anche guardando Questo video Se vogliamo dirla E facendolo Gli diamo spazio Cioè Lui faccia la sua strada Con la sua famiglia Vera Non vera Faccia che cazzo vuole È ovvio che Se la gente Gli mette il riflettore addosso E lui fa cose Grazie piccola Grazie Grazie Ma lui ha una cosa Appartiene a un solo posto Se sapete l'inglese Nell'immondizia Punto Grazie Se l'ha andata a tirare fuori Non è più trash È un'altra cosa Ok Con Cunzlao Con Cunzlao Con Cunzlao no Con Cunzlao È un maestro Persone Dirette Verso un'unica casa Giustizia Giustizia Per cosa? Io Rioli Incardo Social Media Manager Lui sta facendo politica Con onore Ragazzi Sarò E sono E sempre sarò La vostra guida Vostro fratello Se non fosse che La famiglia Che ci piaccia o no Così come la intende lui Non è mai esistita E infatti Arriva anche per Rio Ormai rimasto solo Il momento di dire addio E questa volta In effetti C'era quasi Certo non sarà l'ultima volta Che sentiremo parlare di Liccardo Ma sarà il suo momento di buio Semitotale Più lungo E arriviamo così All'ultimo capitolo della storia Passano molti mesi Dall'ultimo addio di Liccardo E questa volta Sembra finalmente uscito Dal vortice Di dipendenza Dai social In cui era Intrappolato Basta Così Nonostante comunque Ogni tanto Continui a caricare Alcune storie su Instagram Ma nulla di eclatante A parte una piccola Raccolta fondi illegale Risalente al giugno del 2021 Ieri mi hanno mandato Anche questo video E' di due mesi fa Quindi non due anni fa Non un anno fa Non ai tempi Dell'Iccardone Che tutti conosciamo Per quelle live Qua si parla di Giugno 2021 9 giugno Questa raccolta fondi Sarà per chiunque Ne avrà bisogno Chiunque potrà scrivermi Ed usufruirne Anche in forma anonima Per qualsiasi cosa Non esitate a contattarmela Ragazzi Io penso Che una roba del genere Non sia neanche legale Cioè se tu vuoi Aprire una raccolta fondi Devi specificare bene I motivi No Datemi i sordi Poi li do Chi ti ha bisogno Oltre a questo piccolo dettaglio Crescere un figlio Cioè Ma che sta affammo Che sta affammo Riccardo investimenti Questo passaggio è importante Perché sposta di nuovo I riflettori Sulla sua figura Tant'è che pochi giorni dopo In una live Do dubbi Dirà queste parole Riccardo Ultima cosa Scrivimi in privato Se vuoi Beccarti a Napoli Sono serio al 100% Andiamo avanti Do dubbi Come mister satan Diventa amico L'ha salvato Do dubbi In questo caso È un personificato Da riccardo E lo fa Per un bene superiore Addirittura amico Cioè Potumaccia Cioè amico di scrivo Che palle Che cringe Ma perché mi dovete borre In queste situazioni Lui era un amico Ciao amico Ciao simone Ciao do dubbi Ciao amico Ciao simone Ciao do dubbi Riccardo Vuole redimersi Vuole che le persone Capiscano Che è cambiato E che non è più La persona Che era un tempo E qui diventa Il periodo positivo Vuoi Ok Io voglio Finisce bene la storia Io voglio Che la gente Capisca Che non faccio più Quelle cose lì Che sono Legittime Perfetto E due dubbi È pronto da aiutarlo Ti posso aiutare Ti possiamo aiutare Perché comunque Il diritto di replica Non si nega a nessuno Speciale una persona Che è stata Nelle nostre live E comunque C'è stata una discussione Molta accesa come lui Ha molto più senso Che tu Torni A parlare Grazie simone Per l'anno Non altri per te Torni a parlare tu Davanti a noi Davanti anche al nostro pubblico Che ti ha conosciuto Ai tempi E spiegare queste cose Che mi stai spiegando Ora Se le pensi veramente Se non chiederai I soldi Puoi andare avanti Vuoi rifarti una vita Vieni a dirlo Ma c'è ancora un problema Rimasto in sospeso Ha detto Ok però Sono bannato Infatti lo stanno scrivendo In chat È bannato Tu dubbi Lo aveva promesso Questo sban Può essere decisivo Se Riccardo Non verrà sbannato Probabilmente il suo cuore Sarà consumato Per sempre dal male Questo sban Può dargli una nuova speranza Per un futuro diverso Per un futuro lontano Dalla sua parte Del primo ban Nella live Instagram Successiva a quel ban Riccardo diceva Testuali parole E ho già scritto 4 email a Twitch Per fammi ritornare Ma in realtà Adesso veniamo a scoprire Da due dubbi Che Riccardo Non aveva fatto molto Per aiutare la sua situazione E non sto parlando solamente Della faccenda di Io sono X E quindi Io gli ho detto Ma l'hai mandato il ticket Per farti sbannare? No Perché non aveva capito Come si fa Mi so fatto aprire la mail Ma social media mail Vabbè Ma era una mail Di ban Indeterminato Proprio greve A tempo Infinito Sì perché lui ha anche Tentato di eludere il ban Avrendosi un altro profilo Con la maschera Che è tipo la peggiore cosa Che tu possa fare su Twitch Lui è stato bannato Flame Un conto è la maschera figa Ma con sta mascherina del cazzo Ti voglio bene Giallù Ma toglitela Che senso ha Tenere la mascherina Col buco alla bocca La maschera figa Di Mr. Flame Ci sta E spacca Ma per avere Sta mascherina del cazzo E Stai molto più tranquillo Senza O sbaglio Anche Ma me Lui si sente così Pian piano Un giorno la toglierà Impotizzo Ma tanto Esatto Abbiamo visto tutti Flame in faccia Vabbè A parte io e te Che lo conosciamo Però Un conto è la maschera Quella seria Che fa Il personaggio Un conto è sta Cagata De mascherina Del covid Con la bocca Che è andato Full romano Ah perché parlo Empatizzo Parlo come lui Ma non ha paura Del covid Perché se si vuole Fumare le paglie Quella mascherina Non ha Utilizzo medico Manco per niente Secondo me Sai Sai tranquillo Che sei un bel ragazzo Gianluca Stai super sereno Togliti sta mascherina Fai il tuo face reveal Tanto l'hanno già visto tutti O ti metti quella Prepotente Figa O se no Così secondo me Non ha senso Vabbè La maschera Prepotente Di Mr. Flame È figa La maschera da gaming Sì La maschera da gaming È figa Letteralmente È figa Che fai il personaggio Con sta mascherina Dalla maschera Dal ciaddone Mr. Flame Con la maschera Tutta super figa La maschera Finta del covid È un po' Anche perché Diciamo Ha degli occhi dolci Un ragazzo dolce Secondo me Si farebbe Cioè Secondo me È molto Sarebbe molto Più rilassato Grazie Asparago Non chiamerò Ciccio gamer Tecnicamente Per molestie Arrasment C'era scritto In inglese E c'era scritto Per questo tipo Per questo tipo Di abuso Dei termini Di twitch Non vi è La riammissione Del tuo Account Ma ora che Do dubbio L'ho aiutato Con questi piccoli Problemi tecnici Si riapre Una nuova speranza Per il canale Di Riccardo Che però Continua a peggiorare La sua situazione Infatti Il vecchio agosto 2021 Si creerà Un ulteriore profilo Twitch Andrà in live Ancora una volta Con un ban All'attivo Andatemi bene il boro E' il boro De borgata Perché ho altri social Dove le persone Interagiscono con me Mi vogliono bene E comunque Mi seguono Ok Quindi tu mi banni O mi shadow banni Io ne faccio altri 780 Non finirà mai Te lo farà altre volte Pino al 31 agosto Ormai anche Riccardo Ha perso il conto Di quanti account Si è creato E anche lui Vuole darci un taglio Sapevo che Twitch Copium Vuole darci un taglio Copium Uno che accanto Avrebbe reagito male Potrei crearmene Altri mille Ma sarebbe un loop infinito Il messaggio che volevo lanciare Su Twitch L'ho lanciato Ora E' finita Prima di Twitch E sto ragiuso Ma nonostante tutto questo Riccardo viene ufficialmente Sbannato Ah vabbè Se viene sbannato Che problema Cioè 4 3 2 1 Dai Qua non ha colpe Non ha colpe Qua letteralmente Nel giusto E qua secondo me Inizia la risalita Sì c'è speranza Qua il periodo buio è finito Si vede anche più rilassato Più tranquillo Da qua è simpatico Simone ha salvato Un'altra possibilità di riscatto E questa volta Riccardo sembra aver messo la testa a posto Lascia infatti da parte Tutta la pantomima Del social media manager E diventa uno streamer A tutti gli effetti Iniziando a fare principalmente Live Earl Per quanto riguarda Il luogo designato A ospitare il nostro eroe Inizia a rifare live Nella sua città natale Napoli Questo però Solo fino al 2 ottobre 2021 Sono andato via di casa E ho litigato con tutti i miei affetti No più nulla Sono a Roma Che era la meta più vicina Che era a Napoli Che più o meno conoscevo E in effetti Il giorno dopo Riccardo è a Roma Dove incontrerà Dopo poco tempo Dudubbi Però se questa giornata Deve andare avanti Questa live deve finire Mi dispiace Tutti d'accordo? Ma la sua permanenza a Roma Comunque non durerà molto Rosari se sei senza alloggio Puoi stare qualche giorno Da noi a Milan Grazie Social L'apprezzo moltissimo Riccardo non se lo fa ripetere Due volte E il giorno dopo Parte alla volta di Milano Siamo in 800 e l'aria Andate a seguire il socialino Vai di colpa No sto mangiando Ma sono in casa Sostante di panettone E comunque è content Maggiare il panettone E qui dopo l'alleanza Con Social Boom Inizia a tutti gli effetti La sua carriera Da streamer earl milanese No Eh questa è tradizione ormai Grazie piccola La sua avventura a Milano Finisce il 12 ottobre 2021 Quando Riccardo Va via da casa di Social Boom Grazie Grazie Stava bello essere qui Grazie Grazie a tutti Grazie Grazie Riccardo quindi ritornerà a Napoli Beh da qui non so più niente io Non so più niente io da qui in poi Non so più niente io da qui in poi Riccardo Osaro da altino basso Da stasera Se ne va da Milano E va nella città che più ama al mondo Nulla togliendo all'altro Per riposare le valigie Fare streaming lì In live Portarvi nei posti più belli Anche lì E nello stesso frattempo Nella settimana Nella settimana Andremo subito A vedere Altre mete Ovunque Ma il suo sogno Verrà brutalmente infranto Il 24 ottobre 2021 Dopo un paio di settimane di live Relativamente tranquille Nella sua Napoli Arriva un altro ban Per il povero Liccardo Giuro sulla mia vita Grazie Che succede con cosa a disco Buon anno cuore viola Leggis fate quello che volete Giuro su La cosa più cara al mondo Lo vengo a prendere fino a casa Nooo Cos'è che è successo? Comunque a questo punto Entriamo in una sorta di loop No no Ho scripato Ma cos'è che è successo? Ah ok Perché Riccardo viene sbannato Incredibilmente Il 28 ottobre Siamo ritornati Il canale Twitch Liccardo Santino Basso è ritornato Grazie a tutti Grazie Twitch Ti amo Per poi essere però Di nuovo bannato Solo pochi giorni dopo Questa volta per Liccardo Sembrerebbe davvero Essere arrivata la fine Soprattutto perché Il 3 novembre 2021 Ricade nelle sue vecchie abitudini E fa una live Da bannato Non penso più Di avere Ma mi ha scritto Tra l'altro Ma anche a me Scrimi Dici Ah puoi aiutarmi con Twitch Però Non possiamo fare niente Cioè A parte che Posso dire una cosa Twitch a mio nome Canale Enk Non è canale Ometal Twitch Dio cane Avete sbannato Liccardo Sette volte Che ha infranto Una quantità di Toss Incredibile E ci sta Perché tutti possono Sbagliare Potete sbannare Sdrumox Sì o no Cazzo O dovete Devo dirvelo io Che siete Ridicoli Prego Beh Hanno bannato E sbannato persone Che hanno fatto cose Molto più gravi Sdrumox Sdrumox Forze A questo Monde Rumox Qualsiasi sia stata la gravità della situa Sono passati due anni Due anni Sì ma mi sembra esagerato farlo vivere nel black mirror Perché poi A parte che la gestità Da schifo Lo dico La gestità da schifo Una volta che è successo Ha sempre rispettato le cose Sì 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 Sta sempre rispettato le cose Però cazzo Cioè L'inclusività L'inclusività State rovinando la vita Una persona Cioè per essere inclusivi Con persone Che Non gliene frega Letteralmente Cioè Una cosa Li può dare fastidio Per tre secondi Avete rovinato due anni Della vita di una persona Questo Mi dispiace Perché poi Sta male Daniele Ovviamente Non può uscire mai con noi Lui si ritrova In casa di Marco Merrino Con Mario L'amante di Flips Mario E lui non può andare in cucina Perché c'è Mario Che strema Per cui si ritrova A casa Chiuso in camera Da due anni Vabbè Non sto facendo Un flame a Mario Però sto dicendo Che lui non può andare In casa Tranquillo Perché ci sono gli altri Che streamano Di Razzettare in scout Però che dico io È che magari Non torna neanche A streamare su Twitch Cioè Comunque c'è la sua cosa Però La cosa di Tornare insieme a noi A farci una serata A fargli Strappare un sorriso Per una persona Che Siccome poteva Magari Ipoteticamente Essere Un pedo Razzista Perché La frase La conosciamo tutti Rovinata La vita di una persona Rovinata Non fare il democristiano Incazzati anche tu Dio porco Almeno in questa situazione Una situazione politica Che poi Sdrumox Si era ritrovato Molto più famoso Dopo il ban Cioè il ban è diventato Caso pubblico e politico Grazie Brunello Caso pubblico e politico Sdrumox Ovviamente Essendo sempre Nell'underground E non vivendo troppo Il mainstream Non l'ha saputa Gestire bene Anzi l'ha saputa Gestire tutt'altro Che bene Di merda Però Dopo Cioè Due anni Sono passati Due anni E diamogli Una seconda possibilità Si Si mette tutto Sotto una coperta E si butta via Le persone cambiano Io sono cambiato Dopo sette ban Da un punto di vista logico Gli sban Che sono stati ricevuti Da chi ha messo Il buco del culo Sulla telecamera A chi Ha commesso Dei reati In live Ok Cioè Siamo a quel livello Sono stati tutti sbannati Allora Non esiste Una cazzo di persona Dotata di cervello Che possa sostenere Che ciò che ha fatto Daniele Meriti un ban Più lungo Allora O Daniele Risulta come Ice Poseidon E Doctor Disrespect Per cui O Daniele Veramente Ai piani Veramente alti Lo conoscevano Perché io so E sono sicuro Che io e Daniele Eravamo conosciuti Dal Siamo tuttora conosciuti Dal capo Mondo Di Twitch Però io Ho preso Un'altra strada Daniele Non ha avuto L'opportunità Di rediversi Però Ci sta anche Il ban Ci sta anche Linea dura Ma dopo due anni Ragazzi Neanche in galera Cioè Capito Ma veramente Cioè Probabilmente Cioè Ci sono Reati Reali Che Hanno meno anni Di galera Il problema Il problema Il problema È semplicemente Questo Il problema Non è Masurum Swan Che Non streamare Mai più Su Twitch Non me ne frega Niente Se stream O non stream Su Twitch Il problema È il fatto Che vive nel Back mirror Che crea Ansia Che almeno Gli venga data La possibilità Di apparire Magari Uno non dice O ospite Daniele Non sta lì Apposta Però se sta Cinque minuti O passa in una Telecamera Ma no Ma anche che sia Un'ora Due ore Ho tutta la streaming Magari se la stream Su Youtube Però che Posso venire ospite O possa entrare E fare le sue cose Grazie Ma io mi prendo Cioè A me va anche bene Ma come secondo me Anche a Marco Che è l'unica persona Ci vive Per cui secondo me A Marco Se Io vengo licenziato Perché Daniele Mi spara Mi vomita in live Perché È stupido Io me la collo La responsabilità E io voglio avere L'opportunità Di dire Ok Mi prendo io La responsabilità Di un mio amico Perché non voglio lasciare Nel tombino Come è stato anche Federico Sì Federico Come avere me A mocca Federico Che mi ha fatto Permabannare Vabbè Quando inviti qualcuno Già sempre Come Cioè Anche avere me Ti assumi la responsabilità Poi io ho anche Un mio canale Però Credo che Dato che È qui con te Se io dico Quindi Se lo dici Mai ninja Dico A questo punto Non ha senso Cioè Letteralmente Dal punto di vista logico Non ha senso Poi Si dica Quello che si vuole Twitch Vuole fare La piattaforma Della Inclusività Dell'amore Del perdono Della redenzione Allora Redimetemi Sto cazzo Chiaro Che avete Bannato uno Per due anni E ne avete Sbannati altri Dopo quattro giorni Che hanno fatto Cose Molto peggiori Però ti dico Secondo me Il fatto è questo Il fatto è che Dani è diventato È diventato Virale Con il suo Ban Per cui Secondo me Io Posso Comprendere Che Dani Non abbia gestito Bene il suo Sban Di Twitch E Si è diventato Un caso Tra virgolette Nazional Popolare Per cui Era Preso Con molte più pinze Rispetto a un Fabio Z O un Riccardo Riosario Che fanno cose E hanno detto cose Molto peggiori Che poi sono state Bannate No ma è chiaro Che dietro il suo Caso c'è molto più Che il suo Semplice caso Però c'è anche Una persona Cioè dal punto di vista Umano Questa roba qua Adesso un po' Se ne parla Un po' Non se ne parla Protegge i lavoratori Le cose Ma a un certo punto Verrà regolamentata Cioè Questo mestiere Dove È un'azienda Privata Te lo dico anche Noi ce la prendiamo Nel culo E fidetti Che tra vent'anni Arriveranno Dei diciottenni nuovi Tutti belli Tutti carichi E noi Gli abbiamo fatto Porco diaz Gli abbiamo creato La strada Per vivere E noi Saremo sempre Gli esploratori Di sto cazzo Compreso Dal primo all'ultimo Anche Lion Grambaud Anche i nuovi arrivati Dal primo all'ultimo Quelli che sono qua Su Twitch Stanno a prendere Una strada gigantesca A qualcuno Che arriverà dopo Ci farà Il culo Su tutti i lati Tutti i lati E però Avrà la strada Spianata da noi Perché Noi siamo Gli sperimentatori Ci sarà una strada Spianata Che paragonarmi Magari Alla strada Del mondo Della musica Quando tu entri Nel mondo Della musica È già tutti i contratti Tutte le cose Perché la musica Esiste da molto prima Rispetto a questa cosa Per cui Noi siamo Delle persone Che stanno vedendo Gli spicci Rispetto ai veri soldi Che si vedano persone Tra 30-40 anni E noi lo stiamo facendo Veramente Ed esclusivamente Perché Ci piace fare E siamo contenti Così Poi magari Rimarrà la gloria Di essere così Con il nome Però Fidatevi Che Qua noi Stiamo dando il culo Per magari Qualcuno ci vedrà In chat Magari tu Che hai 15-14 anni Tra 10 anni Diventi famoso E BOM Te l'abbiamo apertato Nella strada Dal primo all'ultimo Che c'è qua Tutti compresi ASMR O tab Trash Non trash Sabah Tutti Tutti quanti Mi stanno Aprendo Il lavoro Sì 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 Sono d'accordo Spicci Diciamo Si può guadagnare bene Però La questione è che Siamo completamente Non Io guadagno benissimo Non mi interessa Però sono spicci Rispetto a quelli Che guadagneranno Persone Che Diventeranno Famili La questione Quando No Quando Quando noi saremo I vecchi di turno E sapremo che Magari Non noi Vabbè Discorso Da Mindset Non lo voglio fare Finiamoci questo video Arrivo Non andate via Ragazzi Devo solo Far la pipì E niente Io ho detto Quello che pensavo Poi Secondo me Cioè Questo Bob 1 E' uno smacco E' uno smacco Da parte di Un smacco Molto grave Io Daniele Non è che sia Un mio grande amico Così Però lo conosco Gli voglio bene So quanto è stato male Ogni volta che leggo Che qualcuno E' stato sbannato Non posso che pensare All'ingiustizia Che si sta vivendo Non perché Quello è stato sbannato Eh Attenzione Ma perché Daniele è ancora Sbannato Ecco qua la verità Tutto qui No E ho detto Che è un mio amico Ma non è che lo vedo Tipo Con Andrea Si vedono tutti i giorni No Cioè Ma in ogni caso Gli voglio bene No E mi spiace Sapere che è così La situazione Mi spiace Non poterlo invitare In live Non averlo potuto Invitare al torneo Di scacchi Ad esempio Io leggo tutto Eccomi Eccomi qua Non so cosa stavi dicendo Comunque nel caso Mi associo Finiamoci il minuto Di Dicchi e Rosario E ricominciamo a parlare Saluto da parte di Rosario Riccardo Il nostro eroe è privo di forze E si è reso al suo destino Ma ormai anche i mod di Twitch Si sono affezionati a Riccardo E alla famiglia Tant'è che il 17 novembre Ci regalano Una nuova speranza Ma forse per Riccardo È troppo tardi Oggi Quando sarà pubblicato Questo documentario Riccardo È scomparso da Twitch E dal web Ma se c'è una lezione Che abbiamo imparato Da questa storia È che tutte le cose belle Prima o poi finiscono Tutte Tranne che Rosario Riccardo E la sua famiglia È però ancora scomparso Io spero che stia bene Dal capitolo 7 in poi È diventata una brava persona Perchè non staccherete più gli occhi Da Lugogo